Il progetto Cuore Sicuro è passato al secondo livello. L'iniziativa sostenuta dalla comunità montana Valtellina di Sondrio guidata da Tiziano Maffezini ha presentato ieri la seconda ed ultima fase dell'intervento che consiste nel dotare di defibrillatori gli impianti sportivi del mandamento. Un impegno iniziato nel 2013 in cui erano stati installati 8 defibrillatori e grazie alla collaborazione con Areu erano stati formati 59 volontari per l'utilizzo di queste apparecchiature. Ora in questa seconda fase l'area di copertura si amplia. Abbiamo dotato tutti gli impianti sportivi, in questo caso sono 25 impianti sportivi e formato una trentina di associazioni con più di 150 volontari affinché questi sappiano operare nel migliore dei modi nel momento in cui si verifichi un'emergenza cardiaca e quindi sappiano utilizzare il defibrillatore che è un obbligo peraltro previsto dalla legge che quindi entro il mese di luglio ciascun impianto e ciascuna associazione sportiva debba esserne dotato e saperlo utilizzare nel migliore dei modi. Tra le associazioni sportive coinvolte è la Pentacom di Eugenio Formolli che fin da subito si è impegnata ad essere capofila di questo importante progetto che non sarebbe però stato possibile senza il sostegno economico della comunità montana. L'attenzione anche in questo campo è stata alta, è un impegno già gravoso per le associazioni doversi dotare dell'apparecchiatura, saperla utilizzare e formare il personale e quindi ci è sembrato corretto che dal punto di vista economico fosse lente a sobbarcarsi la spesa che in questo ultimo caso assomma 30.000 euro affinché chi già fa il volontariato e spende il proprio tempo non abbia anche da aggravarsi dal punto di vista economico. Ora resta soltanto un piccolo ma grande passo da compiere sensibilizzare le associazioni ed operare sui volontari per garantire il massimo della professionalità in caso di emergenza.